Benvenuti a Volterra, un viaggio nella storia e nel fascino senza tempo. Volterra, una delle perle nascoste della Toscana, è una città che custodisce millenni di storia e un fascino senza tempo. Oggi vi accompagneremo in un viaggio attraverso i suoi luoghi più iconici. Volterra, una città con radici etrusche e romane. Fondata dagli etruschi nel VII secolo a.C., Volterra è una delle più antiche città della Toscana. Le mura etrusche, ancora visibili, circondano il cuore della città, proteggendo tesori di inestimabile valore. Durante l'epoca romana, Volterra prosperò ulteriormente, come testimoniano l'imponente teatro romano e i resti delle terme. Il cuore medievale di Volterra. Passeggiare nel centro storico di Volterra è come fare un viaggio indietro nel tempo. Le strade lastricate, gli edifici in pietra e le torri medievali raccontano di un'epoca in cui la città era una potenza regionale. La piazza dei Priori, dominata dal Palazzo dei Priori, è il centro della vita politica e sociale da secoli. Volterra è famosa per la sua produzione di alabastro, una tradizione artigianale che risale all'epoca etrusca. Il museo etrusco Guarnacci ospita una delle collezioni più importanti di reperti etruschi al mondo, tra cui la celebre urna degli sposi. Ma la città è anche un centro di cultura, con gallerie d'arte e eventi che animano le sue strade tutto l'anno. Volterra non è solo storia e arte, ma anche natura. La città è circondata da colline verdi e paesaggi mozzafiato. Il parco archeologico e fiumi offre una vista panoramica straordinaria sulla campagna toscana, mentre il balse di Volterra, spettacolari formazioni di argilla, raccontano l'evoluzione geologica del territorio. Volterra ha ispirato numerosi autori e registi. La città è stata il set di diversi film e romanzi, tra cui la celebre saga di Twilight. L'atmosfera unica di Volterra, con i suoi vicoli stretti e misteriosi, la rende un luogo perfetto per racconti di fantasia e mistero. Volterra è un gioiello della Toscana, una città che unisce storia, cultura e bellezze naturali in un unico luogo. Speriamo che questo viaggio vi abbia ispirato a scoprire di persona il fascino di Volterra. Grazie per averci seguito e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altri viaggi straordinari.